Grazie a Ruschimira, Massimo Cartaginese e al Circo dei lettori di Torino per questa occasione di parlare di Klevnikov, che per me è una cosa difficilissima. La prima volta che ho letto Klevnikov secondo me era nell'89 alla biblioteca Gwanda di Parma. Io mi ricordo, e l'ho letto, ero in piedi e c'era lo scaffale dei russi e ho tirato fuori questa antologia di Angelo Maria Ripellino che si chiama Poesia russa del Novecento e ho letto la prima poesia di Klevnikov che ho letto in traduzione che diceva Quando stanno morendo i cavalli respirano, quando stanno morendo le erbe si seccano, quando stanno morendo i soli si bruciano, quando stanno morendo gli uomini cantano delle canzoni. Allora io ho un udito abbastanza buono, sento bene, non ho problemi di amplifonare però non ho un udito eccezionale. Se avessi un udito eccezionale avrei sentito nella biblioteca Gwanda di Parma, quando ho aperto quell'antologia, il rumore degli scambi della mia vita che disegnavano un'altra direzione, perché la mia vita in quel momento lì è cambiata. Io ho lavorato due anni alla tesi su Klevnikov, sono diventato grande lavorando su Klevnikov e ho poi scritto e pubblicato più di 40 libri e ne ho tradotti una ventina, ma quella tesi lì che ho fatto su Klevnikov e che non ha letto nessuno per fortuna a parte i miei relatori e correlatore è stata l'impresa più grande della mia vita. Ho stato così male per scrivere quella tesi che prima che conoscessi mia figlia, la mamma di mia figlia e prima che nascesse mia figlia io consideravo i due anni di lavoro su Klevnikov come il periodo più bello della mia vita. e in questi mesi, io tutte le volte che vado in Russia, tutte le volte, quando arrivo in Russia io la prima cosa che mi viene da pensare è che poco mi serve una crosta di pane, un litale di latte e questo cielo e queste nuvole. Chi è stato in Russia sa benissimo che il cielo della Russia è diverso dal cielo italiano, è un paese grande ed è così evidente questa cosa, Klevnikov lo dice così bene e in questi mesi terribili per chi come noi ha un legame per la Russia. A me tante volte è venuto in mente che la legge dell'altalene prescrive che si abbiano scarpe ora larghe, ora strette, che sia ora notte, ora giorno e che i signori della terra siano ora rinoceronte, ora luogo. La cosa per me è difficile parlare di, c'è stato un periodo che non facevo altro che parlare di quando scrivevo la tesi, ecco. Anche se è stato un periodo difficile perché io ho avuto, se c'è una malattia da prendere mentale io la prendo e quando si fa la tesi succede a tanti, a me è successo che io quando qualcun altro parlava di Klevnikov mentre io smettevo di sentire e ascoltarlo, perché ero io l'esperto di Klevnikov, cosa vuoi che ne sappia? Mi offendevo, ecco, no? Leggevo gli articoli su Klevnikov sperando che ci fossero degli errori, perché sarei stato io quello che avrei, ero così coglione. E ne parlavo continuamente, no? Avevo la cosa che racconto e che ho scritto e che riscrivo, perché questa è una storia infinita davvero, la relazione con questo signore qua, che mi crescevano dei paraurti retrattili che mi tenevano lontano da tutte le cose che parlavo di Klevnikov durante il periodo della mia tesi, però io ne parlavo continuamente per il dispiacere di quelli che mi conoscevano all'epoca, che non erano chissà perché così interessati alla poesia d'avanguardia dell'inizio del secolo. E la cosa adesso faccio, da una parte faccio fatica a parlarne, un po' perché ho sempre l'impressione che come lo racconto io, Klevnikov venga fuori meno di quello che è. Un po' per la natura della cosa, proprio la poesia in traduzione, no? C'è questo film di Jarmusch, si chiama Patterson, no? Nel quale parlo, adesso io ho appena scritto un romanzo su Anna Akhmatova, un altro grande poeta del Novecento, lei voleva essere chiamata poeta e non poetessa, allora la chiamò poeta per quello, che era proprio, che ha fatto l'opposto di Klevnikov, una poesia non sperimentale, molto domestica, chiara, molto terribile, così come terribile e sperimentale è la poesia di Klevnikov, si stimavano molto loro due, no? E per forza di cose, perché sono due grandi poeti, mi viene da dire anche... e mi è venuto da pensare che io ho visto poco tempo fa questo film di Jarmusch, no? Che si chiama Patterson, che è un film dove c'è uno che fa l'autista di... che si chiama Patterson e che fa l'autista di autobus in una città che si chiama Patterson, come lui, ed è appassionato di poesia, no? È appassionato di un altro poeta, non mi ricordo come si chiama, e alla fine trova un giapponese che è appassionato come lui e gli chiede, ma te la leggi in traduzione? E questo giapponese dice, no, guarda, leggere poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeante. Io ho tradotto Klevnikov e lo leggo, però è un po' diverso, anche se per esempio io la prima cosa di Klevnikov che ho letto era in traduzione e ero bagnato tra l'altro, io sono corso a cercare i libri di Klevnikov, ho trovato un'antologia adesso, quella poesia di Ripellino che adesso è introvabile e poi per un caso, non so, c'era nella libreria Feltrelli di Parma un testo in russo su Klevnikov, la prima edizione seria, no? Firologicamente sensata che si chiama Tua Riegna, a cura di Grigori e Veparnis, che era lì che mi aspettava a me. Ecco, ed è il testo poi su cui ho lavorato per la tesi. E io ho fatto, allora, c'è questa cosa che si diceva anche prima che Klevnikov ha la fama di essere uno scrittore incomprensibile, no? E io ho fatto la tesi su Klevnikov, vero, studiato, mi ricordo quella meravigliosa biblioteca che è la pubblicazione di San Pietroburgo sulla prospettiva Agnemsky, no? C'era una orribile stanza dove si andava a fumare, che era la stanza del fumo, no? Dove aprivano le finestre con 25 sotto zero, no? E lì si conosceva la gente, no? E mi ricordo la prima cosa che ti chiedevano, cosa sei qua a fare? Io gli dicevo, scrivo la tesi su che la scrivi su Klevnikov e loro mi dicono, ma come fai a scrivere che non si capisce niente? Che non si capisce niente di quello che scrive? E io gli chiedevo, ma te l'hai letto? E loro mi rispondevano, no, non si capisce niente, cosa lo leggo a fare? Cioè c'è questa fama di, no? Eppure, per quello, io, l'antologia che mi ha chiesto di fare Quadlibet, io l'ho intitolata 47 poesie facili, una difficile, perché Klevnikov queste due poesie, queste tre poesie che vi ho detto, sono semplicissime, cioè non c'è nessun bisogno di essere degli esperti. Poi ci sono anche le poesie dell'avanguardia e quella cosa lì, Klevnikov aveva studiato matematica all'università di Casani, che era all'università di Lavacevski, che è uno dei tre studiosi, dei tre scienziati, che hanno scoperto le geometrie non euclidee, cioè hanno scoperto che non è detto che noi viviamo in un mondo tridimensionale, ma che è possibile, che siano più dimensioni, no? Lui voleva fare, avendo anche questa base scientifica, voleva fare in letteratura la stessa cosa che Lavacevski aveva fatto nella geometria. Quello lì era un periodo molto, insomma, dove l'inizio del Novecento, erano crollate tutte le certezze, no? E lui aveva anche la preparazione. E certo, alcune cose di Klevnikov, io quando in quel libro lì, ci sono nelle poesie di Klevnikov, c'è per esempio un simbolo matematico che è radice quadrata di meno uno. Io non sapevo niente di radice quadrata di meno uno, però c'è un testo di quegli anni lì, che è un libro memorabile di Gini Zamiatin che si intitola Noi, che è stato scritto all'inizio degli anni venti, no? Zamiatin è anche lui, come Dostoyevski, un ingegnere, ingegnere navale come Dostoyevski, e in Noi, che è questa distopia, questo mondo nel futuro, no? C'è questo, vi leggo un pezzo di Noi di Zamiatin. Ad ogni equazione, ad ogni formula del nostro mondo superficiale corrisponde una curva a un solido. Per le formule irrazionali, la mia radice quadrata di meno uno, non conosciamo solidi corrispondenti, non li abbiamo mai visti. Ma la cosa terribile, scrive Zamiatin, è che questi solidi sicuramente esistono, ma sono invisibili, perché in matematica ci passano davanti come su uno schermo le loro ombre strane, irritanti, le formule irrazionali. E la matematica e la morte non sbagliano mai. Se questi solidi non li vediamo nel nostro mondo, in superficie, per loro ci sarà, deve esserci per forza, un intero enorme mondo oltre la superficie. Ecco, il lavoro di Clieblico prova a esplorare, a scandagliare, attraverso strumenti linguistici anche nuovi, inusuali, questo enorme mondo oltre la superficie, che all'epoca, all'inizio del Novecento, preoccupava moltissimo non solo lui, non solo Clieblico, ma anche molti dei suoi contemporanei. Agli inizi del Novecento in Russia erano comparse due traduzioni di un libro del canadese Richard Morris Buke, il libro si intitola The Cosmic Consciousness. Buke era uno psichiatra, era anche l'editore di Walt Whitman, una figura stranissima, e nel suo libro Buke prevedeva come imminente il passaggio dell'umanità da una coscienza tridimensionale, normale, a una pluridimensionale cosmica. Secondo Buke, il segno di questo passaggio sarebbe stato un cambiamento nella lingua, il primo segno, sarebbe stato necessario guardare con molta attenzione all'arte, perché gli artisti sono all'avanguardia nello sviluppo psichico dell'uomo, diceva Buke. Pochi anni dopo, nel 1913, nella Russia zarista, un poeta sodale di Kliebnikov, Alexei Krucionik, che è uno dei principali esponenti del movimento conosciuto col nome di Futurismo Russo, di cui Kliebnikov era il leader, Vladimir Markov, che ha scritto una straordinaria storia del Futurismo Russo, scrive Un Futurismo Russo senza Kliebnikov sarebbe come un bolshevismo senza alieni, Krucionik, dicevo, nel 13 pubblica una raccolta di poesie che si intitola Pomada, vuol dire rossetto forse, nella quale c'è una poesia che fa così dir, bul, shil, ubi, shur, skum, w, so, bu, r, l, es. I suoni di questa poesia sono simili ai suoni del russo, ma in realtà non significa niente, neanche in russi. Krucionik pretende che la poesia sia scritta in un linguaggio a lui proprio, che riferisce dagli altri e le cui parole non hanno un significato preciso, ma significano comunque qualcosa. E citando Biuk, dice che lui, Krucionik, si è impadronito di quel significato perché lui è all'avanguardia nell'evoluzione psichica dell'uomo. In un altro libretto che si intitola La parola come tale, che pubblica insieme a Kliebnikov, Krucionik dice che dir bulshil è più russa di tutte le opere di Pushkin messe insieme e che la chiarezza, la purezza, l'onestà e la gradevolezza, che in passato erano qualità che si richiedevano alla parola, sono caratteristiche che ormai si addicono più a una donna che alla lingua. Era anche un po' misogino Krucionik. In un'opera del XV che si intitola Tiny Parokhi Akademikov, i vizi segreti degli accademici, Krucionik riporta il conto della lavanderia di un certo signor Juszinski. Un lenzuolo 5 copecche, due camicie 20 copecche, cinque colletti 30 copecche, due paia di polsini 20 copecche, tre federe 9 copecche, un berretto 5 copecche. E sostiene che se si paragonano queste strofe con le ottave della Neghi nella tristezza e i rimpianti insensati e così via, è evidente che lo stile del conto di lavanderia è superiore secondo Krucionik. Ecco, Kliebnikov, diversamente da Krucionik, questa lingua, questa lingua solo suono, si chiama Zahumnizik ed è la lingua trasmentale, tra l'altro in italiano. Kliebnikov non dà alla lingua trasmentale tanta importanza per lui. La lingua trasmentale è un seme dal quale poteva nascere qualcosa. Kliebnikov pensava che la lingua avesse una saggezza sua e che l'effetto sulla coscienza dei versi trasmentali, puro suono apparentemente privo di significato, fosse una delle spie di questo valore ontologico della lingua. E Kliebnikov lui aveva provato per esempio a cambiare la parola russa con cui si designa il poeta che in russo era ed è paet scritto quasi come in italiano con una pronuncia piena diversi paesi. Lui però non l'avrebbe chiamato, lui l'avrebbe uno dei compiti del poeta secondo Kliebnikov era ricostruire la saggezza della lingua quindi era contro ai calchi occidentali e trovare nella lingua una chiave per capire il mondo rintracciare nelle lingue slave la cosmografia che era andata perduta rimediare alle loro corruzioni inventando parole anche nuove ne inventava tantissime e passava i giorni sui dizionari non sopportava i calchi della lingua occidentale e poeta non andava bene perché era un calcolo e era meglio chiamarlo Nieba Pisiez da Nieba cielo e Pisacchia scrivere e si potrebbe tradurre scrittore di cieli o cielo scrivente e questo cielo e queste nuvole non bastava dire bulshil non bastava la lingua della spesa andava bene anche dire bulshil andava bene anche la lingua della spesa ma non bastavano bisognava pescare nei dizionari il puro principio slavo e la sua cortezza dorata e vabbè io potrei cioè ci sono un sacco io la cosa che 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 mi viene da fare ma proprio un po' per una e che ho fatto anche delle volte per iscritto e anche in tante discussioni che ho avuto Clebnico vero è molto più bravo però non mi eh no di citare quelli che hanno detto ma non si fa così non si fa allora io vorrei fare due cose adesso io vi leggo un po' di poesie di Clebnico che sono che sono un po' e sono con l'impermeabile ecco con il mio impermeabile perché purtroppo eh e poi provo quelle facili poi provo a raccontarvi una poesia difficile e poi provo a faccio un'altra cosa e con questa finisco che è una cosa un po' più lunga dura una ventina di minuti e io l'altro giorno sono io grazie ho avuto la fortuna che mi hanno censurato e allora mi hanno chiamato e l'altro giorno mi hanno chiamato a Bogotà a parlare e sono andato non ero mai stato sono andato con le chiedi e a Bogotà mi è venuto da pensare improvvisamente io sono ho 59 anni sono quasi 50 anni che leggo dei libri e mi è venuto da pensare che a me ero all'aeroporto di Bogotà i libri non mi piacciono per quello che dicono ma per come mi fanno sentire cioè è quello che provocano dentro non è è proprio dentro di me che io ho bisogno dei libri allora io provo a raccontarvi in un testo di qualche anno fa che però mi sembra che sia che l'ho messo anche nel prossimo romanzo come come mi sentivo quando scrivevo la tesi nel momento in cui facevo questa cosa e questa cosa è successa in Russia nel 93 la cosa che con la quale finisco questo intervento mi rendo conto che è una cosa un po' strampalata ma io sono strampalato allora il primo il primo testo che che voglio leggervi si intitola Rifiuto e dice per me è molto più piacevole guardare le stelle e firmare una condanna a morte per me è molto più piacevole ascoltare la voce dei fiori che sussurrano a lui chinando la testolina quando attraverso il giardino che vedere gli scuri fucili della guardia uccidere quelli che vogliono uccidere me ecco perché io non sarò mai e poi mai un governante dal sacco per terra si sono sparse le cose e io penso che il mondo è solo un soghigno che brucia appena sulle labbra di un impeccato e questa si intitola io e la Russia e fa così a migliaia di migliaia la Russia ha dato la libertà non c'è cosa migliore a lungo la ricorderanno per questo io invece mi son tolto la camicia e tutti i grattacieli di specchi dei miei peli tutte le fessure della città del corpo hanno esposto tappeti e tessuti russi le cittadine e i cittadini del me stato si sono affollati alle finestre dei riccioli dalle mille finestre le olghe e gli igar non per convenienza rallegrandosi del sole hanno guardato attraverso la pelle era finita la prigionia della camicia mi ero semplicemente tolto la camicia e avevo dato il sole al popolo del me ero nudo vicino al mare così ho regalato le libertà ai popoli alle genti che prendevano il sole e questa è una poesia che piaceva che ricorda che piaceva molto la prossima è una poesia molto breve che piaceva molto a Osipan de Stam e che sua moglie dice che la ripeteva spesso e dice così la stazione di polizia è una gran cosa è il punto d'incontro tra me e il governo e al governo torna in mente che quel punto esiste ancora la prossima si chiama Gilevitsy Vershinets l'abitante delle delle vette della vetta delle vette Vershinets Gilevitsy Vershinets della vetta e se c'è un gruppo russo che si chiama Auktion che ha musicato insieme a un bardo che si chiama Host delle poesie di Gilevitsy se cercate Auktion con la Y Auktion e Gilevitsy su Youtube viene fuori questo album dove sono le poesie di Gilevitsy tra cui anche Gilevitsy Vershin messe in musica con la bellissima voce di Kost e la traduzione di questa un mostro abitante delle vette con un sedere orribile Germila portatrice della brocca dall'incantevole sguardo lei dondolava come un frutto tra i rami delle braccia pelose il mostro l'orco era contento occupava il tempo e l'ultima delle poesie facili che leggo è la poesia quando io penso alle due donne della mia vita che sono appunto Francesca e Lirma mia figlia e sua mamma io penso ai primi versi di questa poesia che dice le ragazze quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore le ragazze che hanno abbassato le lance sul lago delle proprie ciglia le ragazze che si lavano i piedi nel lago delle mie parole ecco adesso l'ultima è quella difficile era una poesia celeberrima che si chiama Bob e Obi celeberrima tra chi si occupa si chiama Bob e Obi e che più o meno fa Bob e Obi si cantavano le labbra Ve e Omi si cantavano gli sguardi Pie e Eo si cantavano le ciglia Lie e Ehi si cantava l'aspetto Gzigzigzeo si cantava la catena così sulla tela di qualche corrispondenza fuori della continuità viveva il volto allora cosa significa sta roba qua Klebnikov in quel periodo in Russia c'era un collezionista d'arte Sergei Shukin che aveva messo insieme la più grande raccolta al mondo di quadri di Pablo Picasso e li aveva esposti a Mosca nella sua galleria il filosofo Nikolai Berdiaev scrive che quando entri nella stanza di Picasso la collezione Shukin ti assala un orrore indescrivibile ti sembra che la vita del cosmo stia per finire questo saggio di Berdiaev è stato raccolto in un libretto che si chiama La morte dell'arte c'era proprio l'idea che con le avanguardie l'arte era l'Italia l'arte classica era finito tutto e adesso io non sono un esperto d'arte e mi sembra sia difficilissimo descrivere il cubismo anche per gli esperti nel 1912 escono in Russia due traduzioni di un libro di due pittori cubisti che sono Gleese Metzenger più o meno la pronuncia deve essere questa che si chiama Du Cubisme in originale e io quando l'ho letto quando facevo la tesi mi era piaciuto molto e da quel che mi ricordo non diceva quasi niente del cubismo diceva che è impossibile definire il cubismo e ci sono due frasi in particolare che mi sono rimasto impresso di quel bel saggio che non diceva niente ed è il buon gusto e il cattivo gusto non esistono più esiste il gusto ecco io non sono un esperto d'arte ma mi sembra che la rivoluzione cubista abbia a che fare con la rivoluzione scientifica che c'è stata tra la fine dell'otto e l'inizio del novecento avevamo uno spazio infinito rivoluzione dalla quale siamo usciti con dei dubbi con molti più dubbi avevamo uno spazio infinito tridimensionale eternamente uguale a se stesso non ce l'abbiamo più non sappiamo esattamente come è fatto il nostro spazio lo spazio è il nostro universo la stessa cosa vale per il tempo che spazio e tempo siano concetti che l'uomo ha a priori che il tempo sia sempre uguale a se stesso infinito e lo spazio sia dovunque tridimensionale perché è così e basta come sosteneva Kant mi scuso per la banalizzazione forse non è più vero Kant scrive a Kiebrick nel 1912 che voleva determinare i limiti dell'intelletto umano ha determinato i limiti dell'intelletto tedesco si è confuso ecco non so se Picasso con i suoi quadri volesse dirci anche questo darci una rappresentazione non euclidea non continua del mondo mi sembra però che sia un'interpretazione possibile Bob e Obi la poesia di Kiebricko è un po' la stessa cosa in termini verbali Bob e Obi si cantavano le labbra Beomi si cantavano gli sguardi Pieo si cantavano le ciglia Liei si cantava l'aspetto gzigzigzeo si cantava la catena così sulla tela di qualche corrispondenza fuori dalla continuità viveva il volto Kiebricko mette vicine una dopo l'altra labbra sguardi ciglia aspetto e una catena e così sulla tela di qualche corrispondenza fuori dalla continuità spazio temporale vive il volto è un ritratto cubista fatto di parole e di suono e e e e e e e e e faccia delle proposte che lui faceva una proposta che lui da ragazzo era molto nazionalista lui nei suoi scritti giovani c'è scritto che lui può dare la mano fino a Vukovar oltre a a ovest di Vukovar non dà la mano nessuno e dopo invece lui è morto giovane aveva 26 anni e gli ultimi anni della sua vita invece lui ha questa idea appunto del della necessità di un governo che prenda tutto il globo terrestre e lui per esempio proponeva che proponeva che per l'abbellimento del globo terrestre per mezzo dei monumenti il luogo di nascita della persona e il suo monumento dovessero essere ai capi opposti dell'asse terrestre cioè che si poteva fare un monumento a uno solo dall'altra parte del mondo e quindi proponeva che chi nella piccola La Manche può essere eretto un monumento marittimo che esce dall'acqua a Ghirel El Ain persiana bruciata sul rogo e nella piazza principale di Washington ha diritto di essere eretto il monumento ai primi martiri della scienza i cinesi I e O conservatori imperiali del cielo puniti per distrazione scrive Kieblikov e vabbè Kieblikov tra Mies du Pro vabbè poi lui ha lavorato tanto sulla previsione degli avvenimenti storici e nel 1911 ha previsto la rivoluzione del 17 e è una cosa stranissima perché la sua previsione della scusa lui ha scritto cioè è una previsione che non muove da un'idea dialettica della storia la rivoluzione perché Kieblikov non è la conseguenza di una particolare retratezza dello stato russo o delle terribili condizioni di vita delle masse operai e contadine è la conseguenza del fatto che nel 534 fu assoggettato il regno dei vandali lui scrive nel 534 fu assoggettato il regno dei vandali non dovremmo aspettarci dunque per il 1917 la caduta di uno stato e poi lo manda a un signore che si chiama Aleksandr Aleksevich Narishkin che reggeva il ministero dell'agricoltura e del demagno statale accompagnandolo con una lettera che dice desiderando verificare per questioni connesse al mio lavoro la possibilità di prevedere il futuro ho realizzato una previsione che riguarda i non tanto lontani 1917 1919 e gliela mando sperando nella sua illimitata attenzione però Aleksandr Aleksandr Narish non gli risponde e quindi lui questa cosa la pubblica tre volte e una volta paragona la misurazione del tempo con la misurazione del fiume Volga il giorno della misurazione del corso del Volga scrive è stato il giorno del suo assoggettamento della sua conquista con la forza della vela e del remo la resa del Volga all'uomo la navigazione sul Volga è diventato un mestiere facile privo di pericoli dopo che centinaia di teste calde hanno segnato con fuochi verdi e scarlatti luoghi pericolosi le rocce e i bassi fondali lungo il corso del fiume allo stesso modo scrive si possono studiare le crepe e gli smottamenti del tempo e mi fermo è più forte di me io vi devo convincere che Kliebnico era molto intelligente molto bravo ma mi fermo qua e faccio quello che che avevo detto che avrei fatto chiudo con questo cioè vi racconto questa cosa che mi è successa a me intanto che studiavo Kliebnico vedrete che ha un po' anche anche fare con lui e questa cosa io l'ho scritta subito dopo avrei pubblicato un romanzo che si chiama Spinoza che era il terzo romanzo e comincia quando stavo presentando Spinoza anzi comincia comincia ha a che fare anche con la presentazione di questo romanzo nel 2000 comincia così una volta nel dicembre del 93 ero nella biblioteca Lienin di Mosca stavo facendo la tesi non ne potevo più volevo leggere qualcosa che mi facesse dimenticare che ero a Mosca che ero in biblioteca che dovevo scrivere la tesi che era il dicembre del 93 me l'ho messo a leggere un libro che con la mia tesi non c'entrava niente me l'ha consigliato la mia insegnante di russo era un romanzo di un filosofo russo che viveva in Inghilterra filosofia di un vicolo si intitolava un'altra volta nel dicembre del 2000 ero alla Feltrinelli di Parma a presentare un romanzo che si intitolava Spinoza non ne potevo più volevo dimenticarmi che avevo scritto un romanzo che l'ho pubblicato che dovevo presentarlo che era uscito una critica su un importante inserto di un importante quotidiano nazionale ecco questa critica diceva che io ero un grande appassionato di Spinoza e che la filosofia del pensatore olandese pervadeva tutto il romanzo quel romanzo lì al protagonista un suo amico gli consigliava di leggere le opere del filosofo olandese Baruch Spinoza il protagonista andava in biblioteca prendeva un'opera l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico l'apriva parte prima leggeva Dio la richiudeva tornava in biblioteca restituiva l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico poi però questo nome Spinoza rimaneva dentro le orecchie andava avanti tutto il romanzo a citare Spinoza la vita è fatta a scale c'è chi scende c'è chi sale come dice Spinoza diceva il protagonista la donna è come la castagna bella di fuori dentro la magagna diceva il protagonista come dice Spinoza con l'arte con l'inganno si vive mezzo anno con l'inganno e con l'arte si vive dall'altra parte come dice Spinoza diceva il protagonista allora quando era uscita la critica immaginare che qualcuno avesse potuto immaginare che Spinoza aveva scritto davvero la donna è come la castagna bella di fuori dentro la magagna sarebbe stato anche bello solo che a me era del tutto passata la fase dell'esaltazione ero nel pieno della fase della sensazione poi lì alla libreria Feltrinelli quando la prima domanda mi avevano chiesto se io intendevo Dio come Spinoza intendeva il suo Dio io ero stato costretto a spiegare come stavano le cose a dire che se qualcuno aveva letto il giornale era venuto davvero per parlare con me del filosofo olandese Spinoza era meglio se andava via subito che io di Spinoza non avevo purtroppo niente da dire se non che il suo libro l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico cominciava così prima parte Dio e poi per fortuna la libreria Feltrinelli di Parma qualcuno aveva fatto subito un'altra romanda per sciogliere l'imbarazzo che si era creato lei nei suoi libri parla spesso di biblioteche che rapporto ha lei con le biblioteche mi hanno chiesto io stavo per rispondere a qualcosa da dirce l'avevo sulle biblioteche ne sapevo sicuramente di più che su Spinoza solo che prima che rispondessi mio fratello Emilio che era tra il pubblico che domanda aveva detto per mio fratello le biblioteche sono come per me le agenzie ippiche ecco storniamo un momento in Russia nel 93 una volta nel 93 abitava in un appartamento all'estrema periferia di Mosca un appartamento oltre che scomodo anche sporco con gli scarafaggi con un frigo rumorosissimo che per poter dormire dopo tre giorni la voce staccato mia insegnante di russo quando aveva saputo dove abitavo ma ti trovi bene la Suma ha chiesto perché mi ha detto sarebbe una stanza in centro vicino alla biblioteca in un appartamento di una che conosco che fa l'architetto un palazzo famoso mi ha parlato Trifono in un romanzo la casa su lungo fiume l'hai letto mi ha chiesto la mia insegnante di russo nel 93 no te l'hai letto le ho chiesto io e per forza l'ho letto mi ha detto lei era proibito è stato l'anno che un pomeriggio in ottobre ha suonato il telefono nel mio appartamento in periferia in Ulissa Bielaziosca ma è un po' mi dispiaceva venire via di lì per via che stavo facendo l'attesa e avevo letto che per un certo periodo Clieblicove Lipschitz o Clieblicove Kaminsky o Lipschitz e Kaminsky e Borliuk adesso non vi ricordo per via che avevo letto che loro per un certo periodo avevano abitato in Ulissa Bielaziosca sembrava un po' strano che Ulissa Bielaziosca era una strada nuova giudicata ai palazzi e risaliva al massimo agli anni 60 di fatto poi erano andati a verificare avevano abitato in Ulissa Bielaziosca a San Pietroburgo non a Mosca allora avevo accettato di trasferirmi nella casa su lungo fiume pochi giorni prima del trasferimento era un giorno che non ero andato in biblioteca ci andavo tutti i giorni in biblioteca tranne quando accettavo l'invito di qualche russo che avevo conosciuto lì in biblioteca viene cosa mia mi diceva che mangiavano due cetrioli io andavo giorno dopo un cerchio alla testa cominciavo a ragionare verso le tre le quattro del pomeriggio e quel pomeriggio ero in casa che provavo a riprendermi con un pediluvio ma han consigliato quando avevo il cerchio alla testa di fare un pediluvio bollente che scioglieva gli umori dentro la testa e cominciavo appena a star meglio a pensare che quel giorno avrei dovuto essere in biblioteca che avevo pronotato un libro di Uspiensky che magari riusciva a capire se lui e Klebnico ci potevano essere mai incontrati è probabile abbiamo abitato tutti e due a San Pietroburgo frequentavano tutti e due il cane Randaggio facevano tutte e due letture pubbliche e Klebnico o meno Klebnico non dicono che fosse l'unico dei suoi sodali come si dice di quelli che prima li chiamavano Gileiani poi li hanno ribattezzati futuristi nonostante Klebnico che Klebnico futuristi era un calco da una lingua occidentale lui i calchi dalle lingue occidentali non li poteva sopportare aveva astrologato questa parola Budiettiani voleva sostituirla futuristi solo Budiettiani era una parola che aveva inventato lui che nessuno dei suoi sodali capiva bene cosa voleva dire si si vi è lì noi ci pensiamo poi avevano continuato per tutta la vita a farsi chiamare futuristi futuristi era un nome che andava bene per il marketing lui che aveva capito ci ha costruito sopra la sua fortuna Klebnico lui il marketing non sapeva neanche cos'era dicono che fosse l'unico del gruppo iniziava a leggere leggeva tre versi poi diceva eccetera eccetera e andava via stavo pensando che avrei potuto essere in biblioteca a risolvere questo problema di Klebnico e di Uspienschi invece ero in casa a fare un altro pediluvio adesso basta con i pediluvio avevo pensato in quel momento era suonato il telefono avevo risposto era Emilio guarda che lì a Mosca c'è la rivoluzione come è la rivoluzione la rivoluzione aveva detto lui la città è in fiamme aspetta un attimo ce l'ho detto Emilio nel 93 ho posato la cornetta ho tirato fuori i piedi da dentro la bacinella ho infilato le sabate ho aperto il balcone ero uscito ho guardato a destra ho guardato a sinistra ero tornato al telefono guarda che ti sbagli gli avevo detto Emilio sarà un po' difficile che mi sbagli mi aveva detto Emilio c'è la casa bianca che ha preso fuoco la fa vedere in tv aspetta un attimo gli avevo detto avevo posato la cornetta avevo attaccato la spina alla televisione avevo acceso ero tornato al telefono aspetta Elio gli avevo detto due minuti te come stai? bene mi aveva detto e tu? gli avevo detto Emilio faceva mal la testa non sono neanche andato in biblioteca ma adesso sto già meglio domani ci vado aspetta che cominci a vedersi qualcosa gli avevo detto Emilio aspetta il telefono avevo posato la cornetta mi ero avvicinato alla televisione avevo guardato c'era della gente inquadrata che parlavano avevo alzato il volume i bombardamenti continuano dicevano ero tornato al telefono sai che forse hai ragione gli avevo detto Emilio eh lo so anch'io che hai ragione mi aveva detto Emilio ma te come va a parte i mal di test io va bene gli avevo detto dopo domani mi trasferisco dove ti trasferisci? in centro vicino alla biblioteca guarda che in centro non fanno andare nessuno l'ha detto telegiornale il giorno dopo quando tutti i mezzi di comunicazione dell'Europa occidentale dicevano che nel centro di Mosca volavano i proiettili che la città era a ferro e fuoco io avevo provato lo stesso andare in biblioteca di fronte al cremlino e stare due giorni senza la biblioteca aliena di Mosca a me nell'ottobre 1993 sembrava un'enormità quel giorno lì dovevo anche ritirare un microfilm di un libro di Hinton Hinton era un altro di cui avrei parlato nella mia tesi uno che aveva vissuto a Londra fino al 1888 poi era sparito non si capiva alla fine che aveva fatto era difficile la mia tesi però a un certo punto prendevano su andavano via senza lasciare detto dove erano andati quando sarebbero tornati c'era qualcuno Borges che ha perfino pensato che Hinton si fosse suicidato invece poi dopo ho scoperto che non si era suicidato era solo scappato era andato in Giappone mi sembra quel giorno lì che i giornali occidentali le prime pagine diceva anche nel centro di Mosca volavano i proiettili la città era ferro e fuoco io ero arrivato alla biblioteca di fronte al cremino senza tanti problemi ero solo dovuto scendere dal metro alla stazione Mayakovskaya proseguire a piedi che le stazioni centrali del metro erano chiuse per motivi tecnici c'era scritto avevo fatto quei 20 minuti a piedi dalla Mayakovskaya alla biblioteca che ogni tanto sentiva bombardare ha ragione miglia ho pensato intanto che passavo di fronte al telegrafo centrale chiuso per motivi tecnici c'era scritto magari per motivi tecnici è chiusa anche la biblioteca invece la biblioteca era aperta lavoravano tutti poliziotti le bibliotecari le guardarobbiere le cuoche le cameriere le lavapiatti io ho consegnato il cappotto ho preso i miei libri ho letto ho pranzato ho fumato ho ritirato il mio microfilm ho riconsegnato i miei libri ero tornato a casa in ulice a Bielasiosky prima a piedi poi in metro poi in autobus io nell'ottobre del 93 ero così preso alla mia tesi per me era così importante andare quasi tutti i giorni in biblioteca facevo delle cose che raccontarli oggi in Italia uno può pensare che non ero mica tanto normale invece ero solo molto attaccato alla mia tesi ero in quella che i sufi chiamano la fase dell'esaltazione che come dice Asrati Nayat Khan su la purificazione della mente ci sono due modi di esperire la vita un modo è la sensazione l'altro è l'esaltazione e l'esaltazione è quello che prova il mistico non che io adesso mi voglio dare delle arie e dire che in Russia nel 93 ho fatto un'esperienza mistica che come dice Asrati Nayat Khan anche le creature inferiori come gli uccelli e le bestie hanno dei barlumi di esaltazione e se approfondiamo maggiormente questo argomento comprenderemo ciò che si legge in un verso meraviglioso alla tradizione islamica ci sono dei momenti in cui perfino le rocce si esaltano e gli alberi vanno in estasi e io nell'ottobre del 93 ero proprio in una fase di esaltazione disturbata solo da qualche contrarietà come per esempio ogni tanto dei cetrioli ma soprattutto era il fatto che per andare e tornare dall'appartamento alla biblioteca ci mettevo tutti i giorni due ore allora forse è stato per quello che il giorno dopo la rivoluzione ero sceso in ulizza Bilasiosca con le mie borse e le mie valigie avevo fermato un tassi dove deve andare mi ha chiesto il tassista in centro gli avevo detto in ulizza Trafimovic la sparano mi ha detto il tassista le do 150 rubli gli avevo detto io ma la sparano mi ha detto lui se le do 200 rubli gli avevo chiesto ma la sparano mi ha detto il tassista 250 gli avevo detto monta mi ha detto lui e mi ero trasferito felicemente da Ulizza Bilasiosca a Ulizza Trafimovic nella casa sul lungo fiume dieci minuti a piede a biblioteca e la mia tesi aveva cominciato ad andare benissimo fino a un giorno in novembre che è stata la volta che mi ero messo a piangere nei primi tempi della mia tesi io ero in preda a quello che Asrati Nayat Khan sulla purificazione della mente chiama un aspetto fisico dell'esaltazione che si presenta quale reazione o conseguenza della visione dell'immensità dello spazio e la visione esaltata dei panorami letterari che avevo davanti mi rimandava una promessa di libertà che corrispondeva al desiderio della mia anima è vero che l'anima inconsciamente si istrugge dal desiderio di trovare la libertà che in origine le appartiene come dice Rumi nel suo Masnavi citato in la purificazione della mente di Asrati Nayat Khan solo che questa esaltazione fisica che va resistito ai cerchi alla testa alle due ore di viaggio tutti i giorni alla rivoluzione alle incompressioni con la mia nuova padrona di casa è crollato un giorno di novembre del 93 nella biblioteca Lieni di Mosca quando dalla comparazione di due diari scritti in epoche diverse dal pittore musicista editore marito della poetessa futurista Elena Gurò Michael Matiusin mi ero accorto che tra i futuristi io nella mia esaltazione vedevo come degli eroi senza macchie senza paura come si dice c'erano anche delle mezze tacche di filo bustieri come il pittore musicista editore marito della poetessa futurista Elena Gurò Michael Matiusin e questa scoperta che ricordata oggi ha una significanza vicina allo zero io nel novembre del 93 sarà stato che ero stanco per i cerchi alla testa per la distanza all'appartamento per la rivoluzione per le incompressioni con la mia nuova padrona di casa per il fatto che le persone che avevo scelto di farci da sopra la testa non si capiva bene dove erano sparite tra il fatto che il momento che avevo fatto questa scoperta era stato il momento che ero passato dalla fase di esaltazione a quella della sensazione da uno stato sottile a uno stato grossolano come dice Asrati Nayat Khan sulla purificazione della mente che è poi quello che lo scrittore americano Kurt Vonnegut definisce il momento che la merda tocca le palle del ventilatore che è poi stato il momento che ero scoppiato a piangere nella biblioteca alieni di mosca mi vergognavo come un cane ho continuato a vergognarmi fino a quando nel dicembre del 93 non sono andato alla festa di compleanno alla mia padrona di casa e la padrona di casa dell'appartamento dove abitavo nella casa sul lungo fiume fin dai primi tempi che avevo cominciato a abitare da lei mi guardava in un modo come se non la convincevo e fin quasi da subito aveva cominciato a farmi delle domande ma lei mi chiedeva dove va tutto il giorno biblioteca le dicevo ah ho capito ma lei mi diceva è ancora studente sì le dicevo ah ho capito ma lei mi chiedeva quanti anni ha 30 le dicevo ah ho capito ne dimostra di più mi diceva la padrona di casa nella casa sul lungo fiume i primi giorni che ero da lei non sembrava mica tanto contenta avermi come inquilino e non sembrava contenta neanche di avermi invitato alla festa del suo compleanno per me era stata bella invece era stato il momento che avevo cominciato a rivalutare la mia tesi di laurea proprio pochi giorni dopo che avevo cominciato a rivalutare la biblioteca alieni quindi Mosca la padrona di casa la casa sul lungo fiume la festa del suo compleanno ha invitato tutti i suoi colleghi architetti che lei era architetto statale solo purtroppo con i soldi che guadagnavano gli architetti statali nella Russia post-perestroica si va a ingegnarla le toccava affittare le stanze il suo appartamento agli sconosciuti senza andare troppo per il sottile anche a quelli sospetti che giravano per casa sempre scrutanti curiosi con occhi da spia e per buona creanza le toccava poi invitarli anche alle feste del suo compleanno non una festa di compleanno normale una festa di compleanno che tra i colleghi architetti che aveva invitato se n'era anche uno che si chiamava Valodia alto, grosso con i due denti davanti sporgenti grandissimi molto distanziati uno dall'altro che era in uno stato d'animo molto particolare proponeva continuamente dei brindisi a destra e a sinistra parlava con tutti era simpaticissimo quella sera lì l'architetto Valodia ex collega della padrona di casa della casa sul lungo fiume ascolti mi ha detto la padrona di casa a un certo momento prendendovi da parte con un tono che si sentiva che le pesava dirmi quello che stava per dire che si vede che pensava che gli sconosciuti affittuari in odore di spionaggio non solo uno era obbligato a invitarli alle feste del compleanno bisognava anche prenderli da parte e spiegargli le cose che poi dopo altrimenti si facevano delle idee brutte quando tornavano dopo nell'occidente diffondevano delle informazioni false ma documentate credibili per screditare la corporazione degli architetti di Mosca ascolti ma ha detto con questo tono tra la scusa e il fastidio non pensi che Valodia faccia sempre così il fatto è che lui si è licenziato tre mesi fa che per mantenere le sue tre ex mogli il suo stipendio statale non basta si è messo a lavorare in proprio sono tre mesi che non esce di casa per quello si sta lasciando un po' andare ma di solito lui è una persona molto gentile molto colta adesso vedrà che si dà una regolata mi ha detto la padrona di casa no no ma le ho detto io non si preoccupi per me non c'è problema anzi mi è molto simpatico Valodia le ho detto mi ha detto la padrona di casa ho capito ma sempre con quello sguardo sospettoso che voleva intendere di stare attento come mi comportavo comunque aveva ragione quando diceva che Valodia si dava poi dopo una regolata mi si era regolato poi subito dopo quando si era messo a parlare con me come ero tornato nella sala da pranzo me l'ha venuto incontro e lei mi ha chiesto cosa fa io sono filologo le ho risposto bene mi ha detto Valodia brindiamo alla filologia mi ha detto mi ha riempito il bicchiere se l'ha riempito il suo e ha brindato la filologia e come mai qua in Russia mi ha chiesto per raccogliere il materiale per la mia tesi di laurea le ho risposto bene mi ha detto Valodia brindiamo alla raccolta del materiale per la sua tesi di laurea mi ha detto mi ha riempito il bicchiere se l'ha riempito il suo e aveva brindato e come si intitola la sua tesi di laurea mi ha chiesto eh Vladimir Klebnico la lingua nella quarta dimensione teorie pratica linguistica gli avevo risposto bene mi ha detto Valodia brindiamo a si era fermato metà della frase mi ha allargato gli occhi era scoppiato a piangere e tutti si era fermati nel loro parlare si era messi a guardare tutti Valodia che nessuno capiva cosa era successo Valodia cosa hai e si era messi a chiedergli tutti e Valodia lui niente si era seduto si era preso la testa tra le sue mani stava lì sulla sedia piegato in due il corpo scosso da dei singhiozzi fortissimi tanto più sorprendenti se si considera che scuotevano il corpo di un architetto moscovita alto grosso con i due denti davanti sporgenti grandissimi molto distanziati l'uno dall'altro ma cosa gli ha detto mi ha chiesto la padrona di casa con uno sguardo cattivo io non ho risposto niente la padrona di casa mi ha guardato come mi ha guardato l'anno scorso un signore a San Pietroburgo un mattino del 2001 media dell'isola Vasilevski ho appena fatto i miei quattro giri del parco ero lì per terra che fumavo una sigaretta aspettavo di riprendermi per fare poi dopo i miei addominali vedo che si avvicina questo signore un po' barcollante nell'andatura con in mano una bottiglia di vino rosso viene da me hai un cavatappi mi chiede un cavatappi mi chiede un cavatappi invece lui ce l'hai mi chiede no gli dico non ne ho di cavatappi gli dico questo mi guarda con uno sguardo un misto di delusione disprezzo poi agita la mano nell'aria dice e si volta se via col suo passo barcollante alla ricerca di qualche frequentatore del parco con un cavatappi padrona di casa il 93 nella casa su lungo fiume non aveva agitato la mano non aveva detto ah ma mi aveva guardato nello stesso identico modo poi si era chinata su Valodia aveva cominciato a carezzargli la schiena squassata dai singhiozzi rumorosissimi su coraggio ha cominciato a dire ti sei impressionato perché non esci da un sacco di tempo ma non è successo niente siamo qui tra amici ti vogliamo tutti bene calmati Valodia gli aveva detto la padrona di casa Valodia si vede che un po' l'aveva tranquillizzato perché Valodia l'ha tolto le mani davanti la faccia l'ha alzato la testa l'ha indicato con l'indice lui l'ha detto lui lui cosa ti ha fatto ha chiesto alla padrona di casa e mentre gli chiedeva così mi aveva guardato in un modo ancora peggio che se non avessi un cavatappi cosa ti ha fatto gli aveva chiesto Valodia alla padrona di casa non aver paura gli aveva detto diccelo che ci pensiamo noi lui l'ha detto Valodia con la voce che gli tremava lui l'ha detto intanto che mi indicava col dito lui l'ha detto fa la tesi su 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 clieblico l'ha detto Valodia era scoppiato a piangere se l'ha preso la testa in mano se l'ha raccolto su se stesso l'ha ricominciato a singhiozzare fortissimo ah l'ha detto la padrona di casa ho capito cosa hai capito gli aveva chiesto un collega architetto la padrona di casa no l'ha detto la padrona di casa dicevo così per dire non ho capito niente infatti era vero nessuno aveva capito niente e che dopo a Valodia fargli spiegare perché il fatto che faceva la tesi su clieblico era una cosa così toccante che lo copriva così nel profondo ce n'era voluto nel tempo nella casa sul lungo fiume nel 93 e ogni volta che smetteva di piangere che si riprendeva che gli chiedevano e beh e allora anche se fa la tesi su clieblico c'è bisogno di piangere Valodia tutte le volte lui alzava la testa alzava il braccio mi indicava lui cominciava a dire lui lui fa la tesi su 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 clieblico scoppiava a piangere tutte le volte fino alla fine che poi dopo era riuscito poi a controllarsi si era spiegato alla fine aveva detto che in Russia dopo la fine dell'impero sovietico era venuta su una generazione di russi che badavano solo ai soldi e come ostentarli una generazione che parlava nell'inglese pagavano in dollari avevano fatto girare il paese su sue asse portanti che adesso tutti nella Russia post-perestroica le loro vite erano cambiate alla ricerca del soldo a studiare l'inglese a pagare coi dollari per stare dietro all'occidente dicevano e anche le nostre di vite diceva Valodia sono cambiate per stare dietro all'occidente e io sapere che in occidente c'è della gente che viene in Russia a studiare Klebnico il più grande poeta russo del novecento che non aveva mai neanche una lira che gli occidentali non li sopportavano io sapere che Klebnico in occidente lo studiano qui in Russia Klebnico i nostri ragazzi non sanno neanche chi è diceva Valodia nel 93 io questa cosa la trovo ingiusta una presa in giro una beffa non ce l'ho con te ma ha detto Valodia una casa su Lunga Fiume ci eravamo abbracciati ci eravamo stretti forti mi veniva da piangere pensivo mentale per non scoppiare in sighiozzi rumorosissimi che se scoppiava in sighiozzi rumorosissimi anch'io ce ne veniva una gamma nella casa su Lunga Fiume nel 93 e da sopra la spalla di Valodia ho cercato lo sguardo della padrona di casa che aveva appena finito di dire ah ho capito e l'avevo guardata con uno sguardo prima di sfida dopo di pace te sei una testa di cazzo le avevo detto con il mio sguardo ma io ti perdono le avevo detto e con Valodia poi alla fine eravamo diventati amici mi aveva dato anche il suo numero mi aveva detto di chiamarlo di andarlo a trovare mangiamo insieme due cetrioli mi aveva detto sì sì gli conosco i tuoi cetrioli i russi hanno delle teste i russi hanno delle teste che non le mangia neanche i maiali mi viene da pensare a me delle volte l'altra volta mi viene da pensare che per fortuna nel mondo c'è un posto come la Russia abitato da della gente con delle teste che non le mangia neanche i maiali se no io non lo so come facevo mi accorgo di avere un po' divagato attorno all'oggetto della mia relazione precisamente a qualche giorno prima di questo compleanno dicembre del 93 nella biblioteca alieni di Mosca un momento che all'apice della fase sufficamente denominata la sensazione grossolana non dovrei voluto essere dovunque fare qualsiasi cosa tranne che nella biblioteca alieni di Mosca scrivere la tesi un momento in cui mi viene messo a leggere un libro che con la mia tesi non c'entrava niente un romanzo che si intitola La filosofia di un vicolo che parlava di un gruppo di bambini che erano nati tutti in casa e che dava sullo stesso vicolo sullo stesso cortile di Mosca un cortile filosofico diceva l'autore che a Mosca diceva c'erano i cortili filosofici i cortili matematici i cortili operai i cortili pittorici i cortili operistici i cortili spionistici i protagonisti di questo romanzo era nato in un vicolo che dava su un cortile filosofico sarebbero diventati poi dei filosofi indipendentemente da quello che avrebbero fatto l'avrebbero fatto comunque filosoficamente così come un operaio nato in una casa che dava su un cortile spionistico avrebbe poi fatto l'operaio spionisticamente diceva l'autore forse sono io che mi ricordo male forse non diceva così ma insomma il senso mi sembra allora mi era piaciuto quest'inizio ho cominciato a pensare chissà in che vicolo ero nato io che io ero nato nella casa di cure piccole figlie di Parma in via Po e il cortile dava sul campo scuola forse un cortile podistico ho pensato ho pensato che effettivamente quello che facevo nella mia vita io quasi sempre lo facevo con questo impedo vigoroso e un po' cieco podistico ho pensato invece sufficamente la parola giusta era esaltata ma allora nel 93 non lo sapevo allora con un inizio del genere io mi ricordo ero andato avanti nella lettura di questo romanzo la biblioteca alieni di Mosca è arrivato il momento che i bambini del vicolo filosofico erano cresciuti e hanno cominciato a fumare uno di loro aveva cominciato a frequentare la biblioteca alieni di Mosca e un giorno nella sala del fumo la biblioteca alieni di Mosca le biblioteche russe c'è una sala che i fumatori come me ci passano mediamente il 20% del tempo che stanno lì in biblioteca un giorno nella sala del fumo questo bambino filosofo aveva cominciato a pensare che nella sala del fumo della biblioteca alieni di Mosca erano riunite le menti migliori tra i suoi contemporanei delle persone che magari lui di faccia non conosceva neanche ma delle quali magari aveva letto o avrebbe letto le opere straordinarie allora io mi ricordo nel 93 in biblioteca alieni di Mosca ho chiuso il libro ero andato nella sala del fumo ho cominciato a guardare i frequentatori della sala del fumo della biblioteca alieni di Mosca con un interesse tutto diverso stavo evidentemente abbandonando il mio ancoraggio terrestre cominciavo a guardare il cielo a avere degli interessi reali come dice Asrati Nayat Khan nel suo la purificazione della mente quando la coscienza è assorbita dalla materia grossolana l'uomo gravita verso terra quando la coscienza è liberata dalla materia grossolana si eleva verso il cielo anche se nel dicembre 93 non devo essere poi riuscito del tutto a liberarmi la materia grossolana che se è vero che il mio interesse in confronti ai frequentatori della sala del fumo dopo la lettura della prima parte della filosofia del vicolo era molto aumentata è anche vero che nella sala del fumo io avevo cominciato ad atteggiarmi a ricambiare i loro sguardi proprio così ogni modo al di là dei miei limiti intrinseci che avevo nel 93 e che in buona parte conservo nel 2002 anche nel 2022 le fisionomie dei frequentatori della sala del fumo della biblioteca Liene di Mosca nel 93 mi sono rimasto impresse e qui ci colleghiamo a quello che ha detto Emilio nel 2000 delle biblioteche delle agenzie ippiche ci avviamo verso un debolissimo finale che poi all'origine di questo intervento un po' lungo mi scusa la lunghezza come si dice farlo più corto non ho avuto tempo quello che voglio dire forte le mie osservazioni nella sala del fumo della biblioteca Liene di Mosca nel 93 nel 94 nel 95 e nella sala del fumo della biblioteca pubblica di San Pietroburgo nel 95 nel 2000 nel 2001 nel 2002 che in Russia la gente nelle biblioteche trascurati nell'aspetto trasandati nel vestire eccitati fumatori ossessivi gran parlatori tra sé e sé nervosi esaltati sono un po' come la gente in Italia nelle agenzie ippiche sembra quasi che si aspettino da un momento all'altro che la loro frequentazione della biblioteca gli cambi la vita una cosa stranissima a raccontare grazie a tutti